Sicuramente è importante ed è adatta per chi ama lo sport. Studiando nel nostro corso di laurea si può scoprire, si può imparare a come organizzare e gestire le attività motorie e sportive. Si impara sicuramente qualche aspetto di tipo tecnico motorio, ma soprattutto è un po' più allargato agli aspetti giuridici, agli aspetti economici, a come rapportarsi ad esempio con gli enti pubblici o privati, le federazioni, i club, perché fondamentalmente si impara a gestire impianti, anche costruirli, gestire atleti di alto livello e questo richiede competenze di tipo manageriale. L'Università di Bologna sicuramente offre dei legami con un territorio che da questo punto di vista davvero ha delle opportunità di alto livello, grazie al proprio tessuto, alle proprie reti di tipo sportivo, di tipo motorio e di tipo ovviamente anche accademico, anche come, perché no, ponte importante per l'Europa.